Sbagliati Amici di Impiazza ben ritrovati, ciao Vale Ciao Silvia, oggi il nostro salotto sarà il quartiere Picone che con Poggio Franco fa parte della terza circoscrizione La denominazione Picone deriva dal torrente oggi scomparso che nel secolo scorso lambiva gran parte di questa zona Tanti ospiti, argomenti e tante curiosità condiranno questa nuova puntata di Impiazza Seguiteci! Mi trovo in piazza Giulio Cesare, uno dei punti di maggiore afflusso di Picone sia per la posizione che per la vicinanza al Policlinico Questa piazza dal 2005 è stata soggetta a lavori per l'ampliamento delle funzionalità E' stata riaperta nel dicembre 2006 e fornita di un parcheggio interrato e completamente rimodernata Qui con me, nel cuore di Picone, l'attore barese William Volpicella Ciao caro Ciao Valentina Che potete riconoscerlo perché ha partecipato per un breve periodo al programma di Verde di Rabbia William, recentemente ti è stato conferito un premio prova d'attore da Barbara Giordani e Beatrice Kruger Riconoscimento tenuto dopo aver seguito il laboratorio del B-Fest, essere attori In che cosa consisteva questo laboratorio? Praticamente si trattava di un laboratorio di formazione, loro più o meno davano delle informazioni su come ci si presentava in maniera professionale e casting E poi ci hanno dato il testo di un cortometraggio che dovevamo studiare nel giro di due giorni e fare una serie di selezioni, dei veri e propri provini fino ad arrivare alla finale di venerdì Insomma da 34 siamo rimasti in 20, da 20 a 8 e da 8 abbiamo vinto in 2, è stata una bella esperienza devo dire la verità Cosa ti ha dato appunto questa esperienza? A livello diciamo di stato d'animo una grossa botta di vita, a livello di lavoro una grossa botta di nulla attualmente però Non è vero No no insomma speriamo che si muova qualcosa Senti ma raccontaci quando è nata questa tua passione per la recitazione? La passione per la recitazione è nata a causa dei villaggi, ho lavorato nei villaggi per 4 anni e quando stai su un palco per 4 anni diventa, è brutto da dire, una specie di droga insomma, crea dipendenza Poi due anni fa sono stato su una rete nazionale come concorrente per una trasmissione con Amadeus e Checo Zalone che ho vinto e lì ho capito che la telecamera mi piaceva molto E ho detto vabbè proviamo a studiare recitazione, quindi ormai un anno e mezzo che mi trovo nel mondo del teatro, ho fatto parecchi spettacoli, un po' di tv grazie a Tele Bari che mi ha portato tanta fortuna E qualche cortometraggio insomma qualcosa si sta muovendo Ma quanti provini hai fatto? Una marea, quasi tutti non a Bari perché chiaramente purtroppo il mondo del cinema è a Roma, anche se ti devo dire la verità da un paio di anni a questa parte la Puglia e Bari in particolare si sta muovendo tanto, tanto Ma che cosa rappresenta per Willy la recitazione? Guarda, nell'intervista che mi ha fatto il vicepresidente del festival sul palco, la cosa che ho detto è, non è questione di fuochi sacri o meno, il fatto di stare davanti al palco, di stare su un palco davanti a una telecamera mi fa sentire semplicemente vivo, questo è il fatto Quindi ha fatto la stessa domanda? Più o meno Fantasia Allora, il tuo attore preferito è italiano? Italiano Filippo Timi decisamente A quale tra quelli presenti sul territorio nazionale ti piacerebbe somigliare per approccio recitativo? Eh, sul territorio nazionale? Guarda, molto bravo trovo Valerio Mastrandrea Un attore invece internazionale? Johnny Depp Al quale dicono o dici che ci assomigli? Dicono, dicono, poi delle persone a telebaria mi hanno fatto fare anche il pirata, quindi pensa tu, proprio la somiglianza era talmente grossa Io ho visto anche delle tue fotografie, chiaramente su Facebook, in cui ti vesti sempre più vicino a Johnny Depp E purtroppo molta gente che mi ha visto l'altro giorno, la settimana scorsa, a Marte di Grasso, mi ha detto Sapevo che ti saresti vestito da pirata, quindi è proprio nei geni, non ci posso fare niente Qual è la differenza tra te e lui sostanzialmente? L'America e l'Italia, i soldi e la bellezza e tanti studi che ha fatto lui e pochi che ho fatto io ancora Insomma, almeno è consapevole I tuoi progetti futuri? Progetti futuri? Allora, abbiamo in corso un paio di cortometraggi che dovremmo girare per i mesi di giugno-luglio Il saggio finale dell'Accademia che frequento al Petruzzelli, quest'anno che si tratta della strana coppia di Neil Simon È una commedia molto brillante, molto bella Mentre venerdì sera sarò al Fortino per una manifestazione che si chiama La Sostenibile Leggerezza dell'Essere Una tre giorni di tematiche trattanti appunto alla sostenibilità e tutto quanto Dove ci saranno performance visive, performance teatrali con me, Giacomo Di Mase, Maria Stella Cassano E Anna Garofalo, che è la mia insegnante, che farà delle performance al Fortino Bene, invece domani sera, sempre in TV però su Sky Ci sarà la presentazione del cortometraggio C'è un cortometraggio che è girato quest'estate, che è stato preso in una trasmissione che si chiama Short Stories Che appunto tratta di cortometraggi che andrà in onda su Camin Sun Television alle 20.45 Bene, come si chiama il corto? Per una maledità, è un thriller Per una? Banalità È un thriller Tu che parte fai? Protagonista Madonna, che ragazzo Allora, un sogno che vorresti realizzare e così concludiamo l'intervista Un sogno che vorrei realizzare? Arrivare a un punto tale da poter utilizzare la mia carriera per fini sociali È un discorso da Miss Italia, però è un sogno che già attuo nel mio piccolo qui a Bari Quindi se riuscissi a farlo a livelli grossi mi farebbe soltanto molto piacere Bene, e con la pace nel mondo, William Volpicella, grazie per essere stato con noi Grazie a te Vale Sparati, Marco, sparati Ricordi cos'è successo? Sparati Sparati Ricordi cos'è successo? Sparati Lei è fatto Lì è tutto lui Grazie.